Dal 5 dicembre scorso la città di Arezzo ha finalmente un nuovo comandante della Polizia Municipale. Sono passate appena tre settimane ed è arrivato il momento di tracciare le prime linee guida di intervento. Non c'è più spazio per la cosiddetta prevenzione, adesso bisogna reprimere. E chiaramente useremo tutti i mezzi che sono leciti, che il codice della strada ci permette. Oltre ad avere un piano assunzionale per il 2017 che prevede l'assunzione di nuovi vigili urbani, abbiamo messo in piedi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, un servizio di controllo in borghese. Questo per far sì di beccare tutti coloro che hanno comportamenti non corretti ma che vedendo una divisa si astengono. Bene, noi li vogliamo sanzionare e quindi per arrivare a poterli prendere in flagrante e avvisiamo prima, quindi non lo facciamo come qualcuno forse a posteriori potrebbe dire per aumentare gli introito del comune. Nell'occasione è stato reso pubblico anche il conferimento dell'incarico di vicecomandante Adaldo Poponcini. La Polizia Municipale di Arezzo ha inoltre annunciato una stretta sull'uso dei petardi a Capodanno, l'intensificazione dei controlli in zona Saione e che partiranno a breve controlli su specifici comportamenti come il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza o lo sporcare il marciapiede. Direi che il primo periodo di apprendistato proprio mi ha permesso di conoscere qualche comportamento non proprio in linea con il codice della strada. Mi riferisco in particolare all'uso del telefonino durante la guida. Voglio dire questo per dirne uno. Potrei anche raccontarvi che non più tardi di dieci giorni fa i colleghi hanno fermato un signore alle 11 della mattina con un grado alcolemico di 3.11 alla guida di una microcar e qua ad Arezzo le microcar non portano molto bene come voi sapete.